Prima puntata dell'Isola dei famosi 2024, tutto nuovo. Oltre al cambio di conduzione, con Ilari Blasi che lascia il posto a Vladimir Luxuria, la detta dell'attuale conduttrice senza malcontenti, e Sonia Bruganelli e Dario Maltese nei panni di Incritici, in Honduras non c'è più Alvin, ma la bionsissima e fisicatissima Eleonore Casalegno. Artur e Luce sono i nominati dal gruppo e Greta Lider decreta il terzo che è Bastianich, però viene nominato da Enip. Tra lanci rocamboleschi dall'elicottero e bichini succinti vediamo dunque le pagelle, secondo noi, il di ieri, lunedì 8 aprile. Vladimir Luxuria, chapeau, e voto sorriso. Ilari manca, così dice il popolo web, ma ormai tocca farsene una ragione, l'ex Lady Totti ha lasciato il posto all'ex opinionista del suo reality. Arriva in tailleur bianco e sembra tornata ai primi anni 2000 quando entrava e usciva dal Parlamento, ma sia allora che oggi non nasconde quello che pensa. E lo fa anche stasera al suo debutto da conduttrice all'isola dei famosi 2024 passando da un genere femminile a uno maschile con una fluidità naturale. Nel reality ha vestito tanti ruoli, l'opinionista, naufraga e ora timoniera, ma come nella vita ogni outfit Vladimir Luxuria locuce su se stessa. Così nonostante i, i detti, i dictati imposti per i suoi look, la lingua non è legata. Minaccia Sonia Bruganelli, guarda che da opinionista naufraga il passo è breve, poi da diplomatica doc Sina Ruffiana e i predecessori, tutti, compresa Ilari Blasi che addirittura ringrazia per i consigli ricevuti, certo dimentica Alvin, ma dopo qualche blocco se lo ricorda e lo mette nella lista degli ex e zittisce Matilde Brandi, qui le regole le facciamo noi. Ma poi specifica, gettati ma non buttarti via. Insomma a Vladimir forse le si può dire come vestire ma non cosa dire. Brava tanto. Matilde Brandi show voto 5. Matilde Brandi ha una mezza crisi, poco reale alla prima inquadratura. Abbassate l'elicottero, grida ma Vladimir specifica, qui le facciamo noi le regole. Saluta fregnando le figlie ma poi si getta, d'altronde non aveva alternative. Però, può piacere o no, ma sa catalizzare l'attenzione su di sé in ogni reality che fa. E il Matilde Brandi show è appena iniziato, ci sarà da ridere, i social ringraziano la produzione di averla messa nel cast. Ele Noir Sergente da GIF voto 9. Bionda biondissima è anche velenosissima. Ele Noir Casalegno non si smentisce. Neanche il piccolo incidente O.T. le si è abbassato il costume dopo essere scesa dalla barca, la placa. Accusa Matilde Brandi di aver finto la paura prima di gettarsi dall'elicottero. Forse ha ragione, ma Sonia Bruganelli interviene. Mi stai rubando il lavoro? E se anche questo forse è vero, Ele Noir è una protagonista. Un sergente delle spiegazioni, Alvin ci dispiace dirtelo, ma con lei le prove si capiscono. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, con Ele Noir sarà ogni istante un buongiornissimo. Da GIF Bruganelli all'angolo voto 5. Da lupo cattivo al GF a nonnina vittima di Capuccetto Rosso all'isola. Sonia Bruganelli è palesamente schiacciata dalle personalità di Vladimir Luxuria e delle Noir Casalegno. L'inviata sembra più velenosa dell'opinionista e la conduttrice fa continue insinuazioni su una presunta tresca tra la Zuccarello e Bonolis, ma vuoi che Greta si fidanzi con Artur così non è più libera? Sicuramente è tutto un gioco, ma dov'è la nostra Sonia? Bruganelli torna, ST Isola aspetta a te. Francesca Bergesio, ma sei seria? Voto 5 Miss Italia si presenta con corona e fascia sull'elicottero, Francesca Bergesio ma sei seria? Vladimir le fa lasciare tutto e la fa gettare. Il suo sogno, quello di diventare reginetta è stato incoronato, ora speriamo se la cavi sull'isola ma non parte benissimo. Greta Zuccarello leader voto 9. Greta Zuccarello dal teatro all'isola. Parte ballerina e finisce naufraga. Voglio vincere e vincerò, non sottovalutate mai una bella ragazza, mai. E lei bella lo è davvero. Ma Sonia Bruganelli confessa, lei l'ho scelta io, d'altronde su 13 un almeno potevo deciderla. Poi specifica, l'avevo scelta per ciao Darwin, è raccomandata? In attesa di scoprirlo lei batte in una prova fisica Valentina Vezzali, ex campionessa di scherma. Brava, bella e determinata. Una scheggia e diventa leader, neanche le fiamme della prova del fuoco le fanno paura. La contessa Alvina Varecondi Scortecci, da tele una serie tv voto 7. La vita da contessa è una vita normalissima, quando uno pensa che i nobili non fanno nulla sbaglia alla grande. Alvina Varecondi Scortecci si presenta così ma le immagini del video che le mandano alle spalle la smentiscono, una villa pazzesca in cui vive, vacanze extralusso e aperitivi a base di champagne e tartine. La clip vale però la regia di una nuova serie tv, I Varecondi Scortecci, storie di nobili. Ha personalità, è solare e fa ridere, ma il rischio che duri come un gatto in tangenziale c'è, noi però ti fiamo per lei. Pietro Fanelli, un grande ba, voto 3. Pietro Fanelli Il modello è finito solo qualche tempo fa al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni fatte su un reality show. Pietro è stato tra i protagonisti del reality targato Netflix Summer Job, ma è finito poi a parlarne male con un tiktoker, che ha poi reso tutto pubblico. Ora continua a criticare i reality e i social mavola in Honduras per fare il naufrago dell'isola. Si definisce poeta maledetto, poi Vladimir gli chiede un verso risponde, non faccio cose a comando. Personaggio Anche troppo Kedi Gay è già idolo del web voto 8 Kedi Gay è una tigre Tira fuori gli artigli senza paura e va dritta alla preda Attacca il poeta maledetto e lo smaschera Senza telecamere è un'altra persona poi quando ci riprendono fa così Fa il tenebroso Sul web la applaudono Sincera, spontanea senza peli sulla lingua La modella senegalese non VIP ci farà molto divertire, ne siamo certi Artur Dainese, record meno furbo? Intanto polemico, voto 6 Artus Dainese, il demartino ucraino, ha una resistenza da supereroe Arriva alla prova del fuoco contro Greta Zuccarello e con il sorriso sulle labbra batte ogni record Le fiamme divampano ma lui continua a tenere le catene senza mollarle mai Ele Noir Cassalegno dopo 3 minuti e 08 secondi stoppa la prova È stato raggiunto il tempo massimo, la prova non può andare avanti Bravo Artur, record man, ma agli altri naufraghi non piace Troppo furbo dicono e lo mandano in nomination E noi aggiungiamo, anche polemico, troppo E voi? Siete d'accordo con questi voti iniziali?